Quindi domani a Cerete entrerà in funzione una nuova caldaia presso la scuola dell'infanzia? Sì, è con grande soddisfazione che grazie a un importante finanziamento regionale domani presso la scuola materna di Cerete entrerà in funzione il nuovo impianto di riscaldamento alimentato con una caldaia di nuova generazione cosiddetta pompa di colore, aria acqua d'assorbimento a gas metano. Questo investimento ha comportato la sostituzione quindi del vecchio generatore a metano obsoleto, infatti era risalente al 1992 con l'attuale pompa di calore, aria acqua ad assorbimento avente una potenza termica di 87 kW oltre ad un'implementazione dei corpi scaldanti, cioè gli attuali caloriferi per intenderci. Il progetto dell'impianto è stato realizzato dal perito industriale Ceria Fabrizio, nonché direttore dei lavori che ringrazio per la fattiva collaborazione anche alla riuscita del buon esito di questo importante finanziamento se non ci fosse stata la sua disponibilità probabilmente non saremmo riusciti a ottenerlo. L'importo progettuale è del valore di 91.800 Euro con un contributo di Regione Lombardia pari a quasi 69.000 Euro pari all'80% delle spese ammissibili. I lavori poi sono stati assegnati ed eseguiti alla ditta Amico SRL di Onore su cinque ditte invitate e specializzate del settore che ha effettuato uno sconto importante pari al 19,20% e devo anche questa ringraziarla per aver garantito l'esecuzione con massima serietà e rispetto della tempistica. Devo dire che con questa opportunità abbiamo provveduto quindi a dotare la scuola materna di un impianto nuovo e più confortevole, economico, perché ci consentirà di risparmiare in modo importante sulle bollette del gas metano e rispettoso per l'ambiente e tra l'altro ci consentirà anche di rispettare il cosiddetto patto dei sindaci in tema di riduzione di CO2 previsto entro il 2020. Possiamo ritenere proprio molto soddisfatti di questo obiettivo anche perché al giorno d'oggi la ricerca e l'ottenimento di finanziamenti così importanti sono sempre meno e quindi ci è andata bene.